Oggi sono qui per lanciarvi una sfida che in parte già vi avevo lanciato ma che voglio rendere ancora più difficile La sfida che vi avevo proposto era quella che io avrei dovuto imparare 100 parole in russo in 24 ore Voglio renderla ancora più difficile Le parole che dovrò imparare dipenderanno da come andrà questo video e come andrà la settimana a livello di youtube Ora vi spiego Praticamente ogni like a questo video farò 5 parole in russo Ovviamente il tempo è sempre quello delle 24 ore In più si sommeranno anche quanti iscritti farò durante questa settimana Quindi da oggi, venerdì, fino a venerdì prossimo, alle ore 14 Tutti gli iscritti che farò equivarranno a 5 parole da imparare Perciò metti caso che ne aggiungiamo i 20 like come ormai è consuetudine E quindi vi invito a farlo Proviamo a raggiungere i 20 like anche al video di oggi Equivare però 100 parole 100 parole in più gli iscritti che faremo durante la settimana Quindi in breve al 99,9% saranno molte di più le parole che dovrò fare rispetto a quelle che avrete dovuto fare nell'altra sfida Voglio renderlo più difficile perché voglio che sia uno speciale per i 100 iscritti davvero bello La seconda parte dello speciale per i 100 iscritti Che va a completare quello che era lo speciale di ieri Del quale vi ringrazio perché sono molto contento per comandare il video Sto cercando di mantenere il ritmo di un video al giorno E quindi se raggiungiamo 20 like entro le 20 Anche domani ci sarà un nuovo video Vi rimedio con un attimo in cosa consiste la sfida 5 parole per ogni iscritto fatto durante questa settimana 5 parole per ogni like lasciato a questo video Tempo appunto Una settimana Poi si faranno i conti E uscita il video Tutto questo Da Chris è tutto Ci vi chiamo Nel prossimo video Da Chris è tutto Un commento e un'iscrizione Benno